Il primo passo è stato compiuto, il Taranto ha chiuso il discorso rimborsi, come tecnicamente vengono definiti i monumenti ai calciatori e staff tecnico delle serie dilettantistiche. Tutti i tesserati rosso-blu dunque hanno ricevuto le somme spettanti maturate il 28 febbraio e sono perciò liberi di potersi muovere come meglio credono. Fermo restando, si intende, una generica e cortese disponibilità a riparlarne. Gli unici due giocatori formalmente vincolati alla società ionica sono Kelvin Matuta e Leandro Guaita. La scorsa estate, infatti, sia il mediano camerunense che il laterale d'attacco argentino hanno firmato un biennale e, d'altra parte, per convincerli a lasciare Avellino e Potenza bisognava offrire qualcosa di diverso. Attenzione, però, che entrambi abbiano due anni di contratto non significa che nella stagione 2020-2021 continueranno a correre sul proto-verde dello Iacovone? E' questo in considerazione dei profondi cambiamenti che stanno rimodulando il modo di fare calcio, a incominciare dagli stessi compensi agli atleti. Il mondo del pallone si interrogerà seguendo questo binario. Le società dalla A alla terza categoria dovrebbero poter ricevere un concreto aiuto dalla FGC, ma ritenere che questo prenda la forma di banconote liberamente e massivamente lanciate da un elicottero in volo e quanto di più lontano si possa immaginare. Più facile, invece, pensare a dilazioni, differimenti o all'eliminazione dei pagamenti a fondo perduto. In virtù di questo, quando si tornerà a fare calcio senza l'assilo dei contagi, i rapporti tra società e calciatori verranno ridisegnati. Ed è questo il nuovo modo di fare imprenditoria calcistica che perseguirà anche il Taranto. Grazie a tutti.